Anna Maria Paradiso, vengo dall'Italia e molti mesi fa ho preso la decisione di aggiustare la mia bocca perché avevo quattro ponti fatti malissimo in vari step e ultimamente non riuscivo più a mangiare, avevo dolore, quindi ho seguito il dottor Palmas e più volte ho ascoltato la sua pubblicità e al che poi mi sono decisa a scrivere e mi hanno subito risposto. Appena arrivata chiaramente io avevo paura, non sapevo che cosa mi poteva succedere, avevo ancora molti denti miei, però per fare un lavoro preciso, perfetto, ho dovuto fare questa bocca bionica. Sì, allora le cose sono cambiate perché finalmente potevo mangiare qualcosa di più duro, senza avere dolore e poi anche la digestione. Finalmente ora, dopo otto mesi, ho messo i definitivi e veramente sono molto molto contenta, molto soddisfatta. Nel gruppo dei miei amici che mi sono ritrovata qui hanno detto che sono i più bei denti che hanno messo in questi giorni. Io ho raccontato quello che ho dovuto affrontare e loro mi hanno trovata bene, tranquilla, sì sì sì, mi hanno fatto tutti i complimenti. Io penso che avere fiducia è la cosa migliore, quindi documentarsi, documentarsi e poi dopo stare tranquilli, sereni, perché dopo tutto va bene. Non ho incontrato ancora nessuno che ha avuto tante difficoltà, perché poi c'è molta disponibilità, se una cosa non va bene la ripeto, no? Quindi queste sono tutte garanzie che uno deve avere, deve aver conto. Penso che avere un bel sorriso ti fa stare bene.